Lunga 8 metri, larga 2,45 e alta 1,80 per passare sotto i ponti del centro storico anche con l'alta marea. Ma la nuova moto vedetta della finanza è soprattutto ibrida a due motori, uno elettrico e uno diesel. Il primo, un propulsore a magneti permanenti da 20 kilowatt, consentirà all'imbarcazione di operare a emissioni zero e a una velocità fino a otto nodi. Un mezzo molto performante e molto funzionale, soprattutto per l'ambiente lacunare, che ci consenterà di avvicinarci agli obiettivi in assoluto silenzio e all'occorrenza ci consentirà di sfruttare tutta la capacità propulsiva del mezzo che con il motore tradizionale raggiunge le oltre 32 miglia orarie. Questa barca in meno di tre secondi riesce a commutare la motorizzazione elettrica con la motorizzazione diesel. Saranno cinque entro i primi mesi del 2022 le moto vedette a motorizzazione ibrida assegnate alle stazioni navali della finanza di Venezia e del Delta del Po. Sono dotate di tutto il necessario, compresa una termocamera a infrarosso, per riconoscere obiettivi sospetti e navigare in sicurezza in orario notturno, con nebbia e scarsa visibilità. Il motore diesel ha una potenza di 330 cavalli. La moto vedetta è stata realizzata dalla cantiere navale FB di Viareggio. Alla cerimonia di consegna di Venezia era presente anche il comandante generale del corpo, Giuseppe Zaffarana.